Ho già fatto un video dedicato alle lezioni con i bambini, mi sto sempre ripromesso di fare il secondo utilizzando alcuni degli strumenti che uso per fare le lezioni con loro. Un modo che ho trovato per farli divertire studiando la respirazione è l'utilizzo della pipetta d'aria. Cosa succede? Quando date questo strumento al bambino la prima cosa che fa è soffiare fortissimo. Quindi diciamo che la sfida sarà mantenere la pallina in maniera stabile con una spinta costante senza fare questo, che la tendenza tanto sarà quella. E quindi già in questa maniera le educhiamo in maniera molto morbida senza obbligare il bambino a dover fare gli esercizi di respirazione un pochino più noiosi e divertenti anche per gli adulti. E quindi lo porti a avere una sfida divertente, semplice da attuare senza metterlo in crisi, diciamo. Un secondo esercizio utile anche per la respirazione, ma in realtà è anche utile per gli adulti. Più che un esercizio è un attrezzo che è il casu. Simpatico casu. Per il bambino questa cosa è simpatica perché uno ha un suono diverso a quello che è la voce. Quindi all'inizio impazzierete un po' perché faranno di tutto. Però il fatto che lo si educa a soffiare con la voce, quindi non con l'aria, che altrimenti il suono non esce, è stimolante. Inoltre il casu, e questo lo dico anche per gli adulti perché comunque l'utilizzo anche con gli adulti, ha meno resistenza rispetto alle corde vocali, al suono con le corde vocali, perché sembra che l'aria scivoli un po' con meno controllo. Quindi può essere utile sia per gli adulti, ma anche per i bambini in modo da poter, che ne so, giocare con gli intervalli, riconoscere gli intervalli col casu. Quando i suoni sono proprio in piena muta, quindi con delle scale discendenti. In modo da affrontare meglio i passaggi. Ed è uno strumento, un esercizio che aiuta a distrarre un po' quella che è la vocalità, che a volte potrebbe creare un problema, l'errore, il giudizio, con un suono che non è propriamente umano, diciamo così. Quindi utile anche per gli adulti, perché poi io l'utilizzo in realtà per un lavoro migliore sull'estensione, ma questo magari si affronterà in un altro discorso, non so se farò un video. Però, diciamo che il casu è uno strumento semplice, sia per le improvvisazioni, per far giocare i bambini, per lavorare meglio su le missioni vocali, senza andare lì a spingere, diciamo, a far uscire per forza il suono dalle corde vocali, diciamo così. In realtà c'è sempre un lavoro cordale, però l'uscita è più libera. Casu! Quindi consiglio questi due attrezzi, perché sono abbastanza semplici da trovare, costano poco, gli si può regalare, e diamo dei compitini ai bambini in modo da poter lavorare sulla respirazione, un pochino su suoni e parallelamente anche sulla respirazione.